Abbiamo appena ricominciato Il risultato di 1-0 per il cereale Un bel urlo Il risultato di 1-0 per il cervello 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 Grazie. 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 Ciao, ciao. Grazie. 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 Oh! 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 Oh, maestri imbecilli. Eh? è giusto per farsi notare e non lo vedi dire siamo a dito appeso siamo a dito appeso non lo vedi 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 Grazie. 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 C'era uno dei nostri imperatori. 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 Grazie. Grazie. E basta voltarsi e urlare, va bene. Ormai è così. Grazie. 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 Fabri. Fabrizio. Fabri. Fabri. Non serve a niente tanto. Lascia perdere. Gli presto di nuovo la bandierina dopo la prossima volta che se la dimentica. Sono arrivati senza bandierina. Grazie. 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 Guarda questi cretini di là.